Siamo qui a presentarvi il nuovo arrivato nella famiglia degli zaini airbag di Mammoth, il Flip da Rider da 22 litri. Questo qui è un nuovo zaino che fa parte sempre della categoria 3.0 airbag Mammoth. È uno zaino fatto esclusivamente per il freerider, come vedete degli spallacci particolari a differenza di questi altri spallacci. È uno zaino molto compatto, di conseguenza quando se lo indossa è molto fasciante e fa sì che la sua forma sia molto aderente alla schiena. Di conseguenza è molto adatto per fare freeride e scia estremo. Grazie a tutti.